ciao a tutti io sono steve cristian pro e oggi ci troviamo con alex gabriele pro che dovremo sfidarci cioè mio fratello iniziamo subito e ci mettiamo la visuale dopo messo la visuale si può iniziare sei pronto dove vai vai ok io nella test ho messo queste stavolta però non si incianta non si incianta niente prendiamo solo le cose principali la balestra io non la uso tantissimo solo tre stacche di cose poi ci prendiamo un accendino questo mela un totem questa cosa arrabbia non ti bug gabrie sei tu che non sai usare i comandi e ci prendiamo questo come non va niente ma sai usare i comandi dai non va niente ma smette dai non va niente a vedere sistemato come no intanto io mi metto l'armatura ci mettiamo scudo arco e le frecce nell'invento un po di cose ok 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 prendiamoci questo l'accendino e delle palle di neve poi vi domandate perché ho le palle di neve cosa quante robe ce l'ha guardate quella casa quella casa l'ha costruito mio fratello io gli ho detto costruisci il campo no mi costruisce la casa ma dai poi voglio fare subito una cosa vabbè non adesso gabrie sei pronto dai io sono pronto non sono pronto eh muoviti oh guardate già mio fratello in armatura gabrie sei pronto oh è pronto allora andiamo subito gabrie via si inizia la lotta non è pronto pronto via no a me non non ci fa niente colaro adesso vediamo vediamo come reagisce te l'hai trasportato adesso ti picchio con le palle di neve non riesco a utilizzare come si usa ma così dove cavolo sei ah no le palle di neve forse è meglio che non le usa l'arco fa più male adesso mi shifto dov'è lo scudo ecco bravo scudetto si guardate come lo para guardate no 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 cavolo cavolo no stai teme teme ti prego teme 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 ok mi ho detto aspetta ok via oh no sono sempre ok vabbè non ho beccato sempre scudo boh e vai e bom 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 mamma mia sono lento a prendere gli oggetti su minecraft non basta questa palestra ma non si fa niente è quella roba eh si stop poi basta non si può fare teme tantomeno iniziato o no si 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 dov'è il mio scudo poi ma se io ti sparo dietro c'è la spada non fa mai niente tra poco mi sta anche rigenerando la vita l'accelino oh è vero gabrie ho vinto ma come hai fatto ma gabrie ma cosa sono queste cose eh si mi sento gabrie dove sei oh no perchè sono shiftato aspetta ok gabrie cosa stai facendo perchè stai sapete una cosa che non vi ho fatto mai vedere la casa che vi ha costruito mio fratello dai gabrie è perchè lui è piccolo non è che ma perchè si è uscito e si è uscito cosa che ho detto che parola ho detto no ma perchè mi vado giù ok carino è una cosa di gabrie non vediamo cosa ha nascosto nel barile tutti e due vuoti sono carino ma gabrie sai una cosa della tua casa no fa niente vieni un attimo qui ma non preoccuparti devo dire che la tua casa è bellissima dai vieni qua che la tua casa è bella vieni no 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 i gabrie vieni vieni gabrie dai fai il bravo bambino gabrie ti do una sorpresa va bene dita incrociate ti faccio una sorpresa vieni no non brucia la tua casa esplode dai vieni ma tu hai visto questa leva lo sapete cosa succede ti esplode come fai a saperlo chi lo dice che esplode non te l'ha detto nessuno ok la tua casa è andata molto bella infatti è vero cosa non sono riuscito a prenderlo inoltre bellissima casa gabriele vi do il mio complimento si ha fatto bussare una palle di neve non è oltre no però una cosa una sorpresa questa pozione ti fa la rigenerazione altissima sì proprio dai gabrie guarda questa registrazione no che cavolo no gabrie gabrie stai fermo visto non ti ha fatto niente no un attimo veramente perché non gli fa niente gabrie ho mangiato una mela vediamo se riesco a bruciarti ti brucio adesso ma basta shift armi non riesco più no 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 non si paga quando shift o gabrie cosa stai facendo una cosa bella da farti è un'altra cosa bella tre no non riesco a puntarti dove sei adesso ti piglio nel qua sapete no non ho fatto a mancarlo dove sei tre due uno ti becco con l'arco no ragazzi non riesco a puntare l'arco pigliante oh c'ho dammi a me no no il blocco dell'arco me lo dai a me ma il mio si quanta terra avevi gabrie guarda adesso intanto mi prendo anche la sua esperienza wow ne aveva un punto e mezzo ok e per questo video è finito ricordarti dal mio mi piace iscrivervi al canale e secondo voi chi dovrebbe vincere questa sfida io o mio fratello gabrie vuoi fare una rivincita no ciao fatto e noi ci possiamo vedere la prossima volta ciao ciao saluta vabbè ciao lo stesso